Questa qua è la Bovolentana, come potete vedere, eliminazione chiesta dai comuni. Questa è l'idrovia che siamo riusciti a eliminare, è stata una battaglia storica, eliminazione chiesta dai comuni. Qua dopo avevamo Vigo d'Azzare, dove ha avuto parere negativo dal Ministero dell'Ambiente. Questi sono i tratti che non sono più stati fatti, sono stati stracciati dal grande raccordo annulare. Dopo le proteste e gli appelli dei residenti di Viale Italia e Via Dante, che hanno chiamato la nostra emittente per dare voce alla preoccupazione per l'impatto della nuova camionabile ai piedi dell'argine destro del Bacchiglione, a ridosso delle case del quartiere, dove vivono 65 famiglie e più di 150 persone. E dopo la disponibilità al dialogo, espressa ai nostri microfoni, dal sindaco di Bovolenta Anna Pittarello, che ha però anche ribadito la necessità di una nuova strada per il Comune, la parola passa ora alla provincia con una sorpresa. Io ho un progetto del GRA, quello fatto con la precedente provincia, dove venivano stralciati alcuni tratti, tra cui assolutamente la camionabile, che è stata una battaglia storica della Lega, la Bovolentana e quella sul Terraglione. E adesso invece cosa sta succedendo? Noi abbiamo sentito dei cittadini che sono molto preoccupati. Perché come sempre succede in Italia, cambiano le amministrazioni comunali, e dopo ci ripensano. Ora che si mettono d'accordo, che noi faremo comunque un confronto con questa amministrazione qua, cercheremo di capire se può o non può essere reinserita in un progetto. Affermo restando che era già stato espresso un parere negativo dalle amministrazioni comunali di allora. Pochi giorni fa, Marcello Banno, è risultato il consigliere provinciale più eletto nell'ultima tornata elettorale ed è ora in corsa proprio per la delega alla mobilità. Cosa possiamo dire ai residenti che sono preoccupati che costruiscano la strada di fianco alle loro abitazioni? Di farsi portavoce nei propri comuni, presso i propri comuni, e di chiarirsi con le amministrazioni comunali. Perché per quanto ci riguarda era già stata stracciata quella strada. Quindi per quanto mi riguarda, sul progetto vecchio che deve essere aggiornato, la strada non c'è.